Alla fine ha prevalso il nome di Giuseppe Volpe, sarà lui a guidare la procura di Bari al posto di Antonio Laudati. La nomina è arrivata dal plenum del CSM che a maggioranza ha votato il candidato di Unicost e Area. Il sostegno a Volpe, pugliese di Terlizzi, che attualmente ricopre un incarico in Cassazione, è arrivato anche dal PG di Cassazione Gianfranco Ciani, dal vicepresidente del CSM Michele Vietti e dai laici di centrosinistra Giostra e Calvi. Nulla da fare dunque per l'altro candidato pugliese Pasquale Drago, ha giunto a Bari e vice di Antonio Laudati fino al suo trasferimento, che è stato appoggiato dai laici di centrodestra e dal togato indipendente Corder. Infine, per Fausto Zuccarelli, ha giunto a Napoli, sono arrivati solo i tre voti di magistratura indipendente. La situazione di impasse, che aveva portato numerosi seduti andati a vuoto, si è improvvisamente sbloccata. Nella sua carriera, iniziata nel 1976, Volpe, quando era PG a Bari, aveva seguito il processo sul rogo del Teatro Perruzzelli e in Cassazione, invece, ha rappresentato la procura generale ai processi sui fatti di Bolzaneto, sull'omicidio a Raciti, sulle firme false in Piemonte. Inoltre, come PG alla Suprema Corte, si è pronunciato sulla richiesta avanzata lo scorso anno dalla difesa di Berlusconi di trasferire da Milano i processi Rubi e Mediaset e ha trattato la questione della misura cautelare per Sabrina Messeri e il processo per le tangenti sesto a carico di Filippo Penanti.